Il problema è proprio il risultato. Noi abbiamo avuto la chiusura delle attività, quindi una crisi economica, una ricaduta economica terribile e in più abbiamo risultati terribili. Questo è il problema principale. Perché in Italia, adottando il sistema della chiusura, chiusura delle attività, addirittura chiusura con il lockdown in un periodo qualche mese fa, un periodo anche duro, ma anche adesso restrizioni forti, i risultati sono così negativi, sono pessimi. Perché, dottore, secondo lei? Innanzitutto è chiaro che se nel confronto, che è l'unico che io possa fare in maniera sensata, fra Svezia e Italia, la strategia usata dalla Svezia ha funzionato meglio sia a livello di controllo, di contenzione dei contagi, che dal punto di vista economico, perché la Svezia non sta soffrendo praticamente in maniera, in ogni caso non in maniera paragonabile a molti altri paesi come l'Italia, dal punto di vista economico. E questo è un fatto molto importante perché ricordiamoci che qualsiasi servizio pubblico è dipendente in maniera proporzionale al PIL. Se si abbassa il PIL si abbasserà anche la qualità dei servizi pubblici per gli anni a venire. Sanità compresa. Lo svedese, è certo, sanità compresa, ma sanità compresa, se mi permette di fare un cappello adesso, un attimo, una delle cose che l'Italia non ha fatto, e altre nazioni del centro e nord Europa invece sì, è stanziare una certa quantità di fondi nel periodo in cui l'emergenza sembrava passata e si sapeva che non sarebbe passata, perché era chiaro che durante l'estate un virus respiratorio per forza di cose si abbassa nella contagiosità e poi riprende in autunno. Questo era atteso. Mentre la Germania, per esempio, si è parlato molto male della Svezia, perché è facile bullizzare una nazione così piccola, ma nessuno si permetterebbe, nemmeno i politici italiani, di bullizzare la Germania. La Germania ha fatto esattamente quello che ha fatto la Svezia, perché sono nazioni che pensano allo stesso modo. Cioè ha rinforzato le strutture sanitarie sapendo che ce ne sarebbe stato bisogno in autunno. Se in Italia non si investe nella sanità, se la sanità si lascia perire, perché è quello che sta succedendo in Italia ormai da decenni, è chiaro che poi qualsiasi emergenza prenda l'Abruzzo. L'Abruzzo è un caso, per esempio, secondo me tipico. Regione rossa considerata, non perché abbia molti casi, ma perché ha pochi posti letto. La Sicilia, da cui io provengo, e ancora molti amici, parenti, in Sicilia all'inizio della pandemia c'erano 60 posti di terapia intensiva. Se la Sicilia fosse stata in territorio tedesco ne avrebbe avuti mille, non 60 o 120 o 180, mille. È chiaro che una regione come la Sicilia con mille posti letto aspetta che ci va in emergenza. Ci vorrà un bel po'. E quello è mancato sin dall'inizio. C'è una strategia che è copriamoci con le mascherine, facciamo debiti, ma non risolviamo il problema. Ecco, questo però, io lo dico, alla domanda e anche alla risposta del dottore, credo che sia invece molto utile a farci fare molta meno confusione, dottore, perché se mettiamo insieme tutto, cioè mascherine giuste o sbagliate, il provvedimento, restrizioni, quando invece il problema, mi sembra evidente, Fabio e Martina, sia soprattutto proprio quello dell'organizzazione sanitaria, al di là adesso del parere del virologo sull'entità e su come poi bisogna rispondere ad un virus come il Covid, il problema serio è che la nostra organizzazione sanitaria è estremamente deficitaria. E anche in questo momento non vediamo alcun provvedimento. Bene, però se noi continuiamo, e questo credo che voglia dire anche il professor Leopardi, se noi continuiamo a denigrare il Paese, a distruggere l'economia del Paese con questi provvedimenti che non hanno una base scientifica provata, è chiaro che noi non ci tireremo mai su perché è il cane che si morde la coda. Se noi continuiamo a non avere il danaro, le risorse, la cultura soprattutto, di rafforzare i presidi sanitari, istruire i medici ad una giusta diagnosi nei confronti dei pazienti, soprattutto i medici di base, e quindi lavorare investendo sulla medicina, sul medico, è chiaro che noi non ne vendremo mai fuori. E' un discorso, Fabio, è un discorso che vale non soltanto per la medicina in Italia, ma vale in generale per tutte le emergenze. Cioè c'è un terremoto, corriamo con la protezione civile, abbiamo un'ottima protezione civile, ma poi non facciamo prevenzione. C'è un'esondazione di un fiume, di un torrente, di un fiumicaccio. Sì, poi tutti a correre là. Esatto, quindi si curano le emergenze, diciamo così, e poi ci si mette una tezza. Nel caso della pandemia, le pandemie si verificano, sono eventi naturali, previsti, infatti i piani c'erano già, non erano piani italiani, erano piani dell'OMS per tutto il mondo. Poi hanno funzionato come hanno funzionato. Ma se non, nel caso della pandemia, nel caso del virus, se non ci affidiamo ai dati scientifici, sarebbe un po' come se, nel caso dell'esondazione di un fiumiciattolo, perché c'è stata una bomba d'acqua, che a volte è un temporale estivo, banale, ma non ci sono, mancano le infrastrutture per gestire questi problemi. Se l'Italia politicamente è indirizzata in questa direzione, le catastrofi sono annunciate. Non c'è bisogno di stupirsi tanto. È evidente che, come diceva una volta Martina in un'intervista precedente, se ci sono soltanto tre posti letto e cinque malati d'emergenza, quella è un'emergenza medica, perché due rimangono scoperti. Bisogna imparare a gestire le crisi prima che si verifichino, o se non prima, se non altro durante, quando c'è la possibilità di farlo. Se l'epidemia si riduce in primavera, estate, perché è normale che lo faccia, è un virus respiratorio. Questa è un'altra delle cose che, naturalmente, i giornalisti hanno presentato come un'emergenza mai successa e incredibile. Ma è normale che nel periodo stagionale dell'influenza le infezioni respiratorie aumentino e poi diminuiscano in estate. Ma sentire dire clinici italiani che dicono che in Italia non c'è più un'emergenza, noi non abbiamo più il Covid, ma il Covid deve tornare, perché ormai è un virus che si è inserito nella popolazione, ci dovremmo convivere. Questo virus non andrà mai via, non siamo in grado di eradicarlo, ci dobbiamo convivere. Per poter convivere con un virus del genere, è ovvio che dobbiamo fare delle scelte razionali. Non ci si può affidare all'idea che ora ci copriamo con le mascherine e subito dopo faremo il vaccino. Il primo che capita.